Da un campione di 832 studenti è emerso che per un iscritto dell'Università di Teramo il costo medio per l'affitto è di 196 euro per una stanza singola e di 136 per una doppia. E' questo il dato più evidente emerso nel sondaggio redatto dal Consiglio degli studenti dell'Ateneo Teramano, voluto per fare un paragone con tutte le università italiane, anche la luce della protesta nazionale che gli studenti dell'Università stanno portando avanti sul problema abitativo con tante tende davanti agli Atenei. Sì, abbiamo fatto un sondaggio per verificare con il Consiglio degli studenti, anche d'intesa con il Rettore, qual è la situazione abitativa degli studenti sia sul piano economico sia sulla qualità degli alloggi. Sul piano economico è emerso che abbiamo un costo medio di circa 196 euro per una stanza singola e 136 euro a persona per una doppia. Sulla qualità degli alloggi comunque sono emersi problemi di umidità, problemi di scarso efficientamento energetico e scarso collegamento nelle zone periferiche con il trasporto pubblico. Dunque a Teramo rispetto ad altre città universitarie italiane i prezzi sono sicuramente più accessibili se non addirittura tra i più bassi, circostanza che contribuisce a renderla più sostenibile per uno studente, pur dovendo evidenziare che rispetto al periodo prepandemico si registrano aumenti fino al 15%, questo in attesa della realizzazione della casa dello studente. Una struttura che l'università ha ceduto in comodato d'uso gratuito alla regione, all'Azio per realizzare questa residenza universitaria che dovrebbe avere 200 posti letto circa. E questo cambierà anche il modo di vivere all'università? Assolutamente perché comunque per gli studenti in condizioni più difficili a livello economico sarebbe previsto proprio un alloggio pubblico a zero costi perché verrebbe comunque finanziato con le borse di studio. Speriamo e auspichiamo che questa struttura venga realizzata il prima possibile entro il termine di fine 2024 che ci è stato comunicato attraverso la stampa e anche dall'Azio.